I punti di forza delle mie ragazze sono la dedizione alla squadra, sono l'amore che hanno per questa squadra, sono la classe che in alcuni di loro è immensa e la cattiveria agonistica che in altre è esemplare. Da migliorare c'è molto, c'è sempre molto, da migliorare c'è l'attenzione, c'è l'attenzione soprattutto in alcuni momenti della partita nella fase difensiva e c'è da migliorare la grinta, la grinta perché secondo me almeno una delle due partite l'abbiamo perse proprio per mancanza di grinta e determinazione. Il nostro finale di stagione è stato molto importante, è stato amaro, potevamo vincere tutto, siamo arrivati quarti in campionato e secondi in Coppa Italia, comunque per essere il primo anno siamo estremamente soddisfatti, sono estremamente soddisfatto. Dal torneo estivo mi aspetto tanto, mi aspetto di rivedere meno errori rispetto a quelli che abbiamo fatto nelle ultime partite, mi aspetto di vedere più grinta e mi aspetto di vedere giocare alle mie ragazze con sorriso, divertendici come abbiamo fatto fino ad oggi. Sì, HSM hanno vinto campionato e Coppa, io onestamente penso che chi vince ha sempre ragione, per cui onestamente hanno meritato, hanno meritato di vincere perché sono senza dubbio al momento la squadra più forte. Certo, le due finali sono state molto combattute, sia la nostra, dove qualcuno dice che l'abbiamo buttata via noi, io dico che l'hanno vinta loro, con la grinta, con la cattiveria, con la forza, con l'intelligenza anche. La finale con la Camilla, anche lì, era persa per loro a minuto della fine, sono riuscite a vincere, sempre con le loro caratteristiche, mostrando un gioco ben preciso, ben delineato, ben strutturato, non hanno mai perso la testa, ci hanno messo tanto, per cui io penso che assolutamente il finale di campionato si veritiero e faccio sinceri complimenti all'HSM e tutte per la loro impresa.